Se volete lavare la trapunta, vi spieghiamo noi. Innanzitutto dove ci troviamo? Nella banderia di D'Andrea. D'Andrea, la galleria di D'Andrea, avete capito? Siamo crescente a multisala, alla galleria 7 punti. Che è da quell'altra parte. Andrea, viene a spiegargli perché tu è il padrone. Siccome la gente che fa ora toglie la trapunta dal letto, no? Sì, la trapunta. Che è la trapunta? E l'ha coperta. Dice si trapunta. Ciao Andrea. Buonasera. Siamo venuti a spiegare con Riccardino questa storia della trapunta. La trapunta come si fa a spiegare? La trapunta. Te la spiego. Spieghiamo questo risparmio in che consiglio. Se vuoi lavare la trapunta, non c'è problema. Self-service? Self-service. No, grazie. No, grazie. Perché ci pensa Andrea. Andrea, self-service. Perché vuoi lavare la tua trapunta? Perché si mette la trapunta, la cosa tondo, la trapunta. No problem. Non c'è problema. Che vuol dire non c'è problema? Lo potete mettere dentro. Mentre noi, cioè io, te Andrea, laviamo i guadagni. No, noi guadagni. Mentre noi laviamo i guadagni. Tu, tu, tu a casa, tu guadagni. Tu guadagni. Perché? Guadagni al tempo. Tu tempo, meno stress. Lavaggio più basta per trasporto. No, più basta, più busta. Più busta per trasporto. Basta. Basta. Dal capo. Lavaggio. Più busta per trasporto. Cioè, se ti muore un caro. Sì, un caro. Ci lo metti nella busta e fai il trasporto. Non devi comprare la barra oggi. No, no. Io la barra mi... No. Va bene. Connetto. Però tanto sulla busta l'ha portata a casa. Entro 21 ore. La trapunta. La trapunta. Deve essere ritirata. Entro le 21 nel giorno di consegna. Però non è... Va spiegato. Non è che va ritirata perché lui la lava e si ritira la trapunta. No, bisogna... Deve venire a pigliarla. A pigliarla, devi ritirarla. Dove? Dove si piglia? La lavanderia si piglia. È andata bene per un pelo. Andrea, siamo stati giari? No. Mica tanto. No, no, no. Ho spiegato male. Lavati e soddisfatti. Soddisfatti. Allora, a che lavanderia siamo? A Ria Sette Ponti di Andrea. Ria di Andrea. Però non si chiama Andrea Lavanderia. E come si chiama? Che ne sono? Come si chiama? Che metti? Acqua. Acqua Sapone. Bravo. Bravo, bravo. Eh, eh. L'ha presa. L'acqua Sapone. Sì, ora basta. Ora basta.